Concentrare l'assalto sulle stazioni a Plink! I Rivelli hanno attivato la Plink! Andate subito sul posto! Mi credo che si vuole tanto da perdere! La Plink Rivelli va disattivata subito! Nell'affizio è ribelle! Il nostro AT-AT è nel mirino di un bombardiere nemico! Non sparate, angacciatori di taglia! Bob Affetter ti è qui per assisterci! I Vici in arrivo! Abbiamo perso! Sono nostri! I bombardieri Rivelli hanno buttato il nostro AT-AT! Vieni! 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 Grazie a tutti. Ci serve un trasporto scout in campo. Ricevuto. ADST in movimento. I livelli hanno assunto il controllo della stazione a blink. Disattivatela per sconciurare un attacco dei bombardieri alla insilo. I livelli hanno attivato la stazione a blink. Dobbiamo spegnerla. Le scansioni indicano che la blink nemico è disattivato. Bombardieri ribelli stanno attaccando. Porto a Enel e Mico. Stanno i camminatori. Mi stanno agganciando. Boba Fett ci aiuterà a spazzare via quei ribelli. Proteggete il camminatore. I ribelli lo danneggiano gravemente. Mi stanno aggando. 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 I ribelli hanno richiesto l'intervento degli ala Y. Disattiviamo quella stazione a fling per fermare i loro bombardieri. Un bombardiere ribelle punta il nostro AT-AT. Un bombardiere ribelle punta il nostro AT-AT. Un bombardiere ribelle punta il nostro AT. Un bombardiere ribelli hanno puntato il nostro AT-AT. Un bombardiere ribelle punta il nostro AT. Uplink nemico disattivato. I ribelli hanno attivato la flink. Andate subito sul posto. I ribelli hanno attivato la flink. Andate subito sul posto. I ribelli hanno attivato la flink. Andate subito sul posto. Andate subito sul posto. Andate subito sul posto. Il nemico è arrivato! Ala Y, ribelli in arrivo! Attenzione alla feccia ribelle! Il camminatore deve essere protetto! È rimasto senza scudi! La feccia ribelle ha distrutto il nostro camminatore! La corazza della T.A.T. è gravemente danneggiata! Ribelli in arrivo! Abbiamo perso un camminatore! Il famoso contrabandiere ha compiuto la sua ultima rotta di Kessel. Grazie per aver guardato il mio coraggio! Seguore! Perpettone che l'avocado solo in a una luce verso staggirla. Passate! Guardare il coraggio delle 3 B, ...eppegliate delle 3 B e ...eppegliate delle 3 B. ...a tutto quello che siostro è troppo. ...eppegliate delle 3 B. Grazie per la visione!